Come è la nostra storia? Come è la nostra storia? La nostra sala presso la società umanitaria Miesa Barman a 48 è aperta su prenotazione per chi vuole visitarla con anche delle indicazioni eccetera. Il catalogo è online e nel catalogo appunto in formato digitale si può vedere tutta la collezione, parte della collezione.